È una brutta sconfitta, la società in primis io avevo chiesto delle cose al coach, alla squadra, ma già dall'inizio non siamo stati capaci di metterle in atto. Abbiamo lasciato fare 30 punti a una squadra che sapevamo quali erano le loro armi migliori, cioè il tiro da tre punti, il saper correre, le abbiamo fatti correre e le abbiamo fatti tirare da tre punti. Purtroppo è una situazione che sta andando avanti da tanto tempo e stasera sono qua io a parlare perché non volevo neanche mettere in difficoltà i coach e i giocatori. La società questa sera farà delle riflessioni e poi vedremo domani quale sarà la decisione che prendiamo.